A Berlino cade un altro muro. Lo smantellano le azzurre del volley. La loro splendida finale mondiale contro gli USA e il sigillo d'oro a una rincorsa finalmente completata. Le rivali ci consideravano atleticamente e mentalmente deboli, bravine sì, ma umorali, instabili, inadeguate alla pallavolo d'élite. E invece, dopo una partita straordinaria, Elisa Togut e le sue compagne rovesciano i vecchi cliché. Ed eccole, Simona Rimieri, Elisa Togut, Manuela Leggeri la nostra capitana, Francesca Picci, Piccinini, Leonora, Leo Lobianco, la nostra statrice, Anna Vania, Mello, Libero, Paoletta, Palli, Gardullo. Si comincia. Primo attacco alla parte delle americane, muro fuori, Francesca Piccinini. Leggeri. Flynn per la BAUN, grande difesa da parte delle italiane, ancora la Flynn che va a chiamare la Tara Floss Battle, è grande, grande. La formazione italiana a 12-9 sul ragazzo, il momento. Sempre Togut a servire Flynn, Scott, che manda sulle mani il muro, la palla è a terra, 25-18, primo set a favorito degli Stati Uniti. E io lo dico e lo ripeto, andate di questo passo veramente e non andiamo lontano, anzi. Ciao. 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 Grazie a tutti. Recupera Anna Vaniamello, poi lo bianco, Togut dalla seconda linea, step point per l'Italia. Rinieri, lo bianco, Anna Vaniamello! Anna Vaniamello! E noi, sul 25 al 18 che abbiamo restituito. E andiamo! 5-2! 3 punti di vantaggio, non sono nulla, è vero, ma le stiamo rivedendo come le abbiamo viste in questi giorni, determinate, convinte e così devono essere. Simona Rinieri, Tom Logan, Flynn, e sbagliano tutto, sono conflette alla bagger di rimessa le statunitense. Sì, Togut! Togut ancora, 16-8! E siamo alla seconda sospensione tecnica di questo terzo sette, azzurri avanti di 8! 24 a 16, step point per il 2 a 1! Con Leo Lobianco al servizio! Tutti in piedi su questo step point dell'Italia! Ed è 25 a 16! 2 a 1 per l'Italia! 2 a 1 per l'Italia! Step point per gli americani! Togut, altissimo il suo bagger, fuori! Abbiamo regalato alle americane questo step! 25 a 22! Abbiamo proprio regalato questo step alle statunitense! Rinieri, Lobianco! Togut! Siamo al match point! Match point per l'Italia! Match point per l'Italia! Saracross Battle! Togut! Lobianco! Togut! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Grazie a tutti.